Il comando della Polizia Municipale di Pistoia ha organizzato il primo seminario internazionale sul controllo documentale che si è tenuto nel Salone Conferenze di Villa Cappugi. Un evento formativo ed informativo sulla falsificazione dei documenti al quale hanno preso parte esperti provenienti da tutta Italia, ma anche da realtà europei come Spagna e Belgio. È un seminario intanto internazionale perché tra i docenti abbiamo formatori che vengono dalla Spagna e anche dal Belgio, da tutta Italia, come anche partecipanti, e controllo documentale inteso in senso ampio, quindi l'approccio al controllo, le dinamiche tra centrale operativa e pattuglie sul territorio e anche la falsità che riguarda appunto il documento, perché ritengo che la formazione e l'aggiornamento professionale siano essenziali, anche fatti in modalità interforse. Quindi auspico che questo è in realtà il primo evento di una serie di iniziative dedicate all'aggiornamento professionale. Pistoia perché è una bella realtà e quindi mi piaceva che anche gli altri colleghi conoscessero la nostra realtà, la nostra città e poi abbiamo scelto questa location perché è un centro congressi all'avanguardia. La cooperazione e l'integrazione fra le forze che operano sul territorio è ormai il punto di forza dei dispositivi di sicurezza che si dispiegano su tutte le città, quindi è importantissimo anche che la formazione e l'aggiornamento proceda con seminari a cui partecipano tutti in maniera tale che il livello di conoscenza e di confronto sia integrato. Oltre 200 le adesioni tra appartenenti alle polizie locali, di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie Provinciali. Ringrazio il nostro comandante, con forza l'ha voluto organizzare perché credo sia necessario anche puntare sulla formazione. In questo caso abbiamo relatori e ospiti veramente internazionali, quindi di altissima qualità. Tra il relatore intanto abbiamo due ispettori della Polizia Municipale di Pistoia, quindi l'ispettore Gasparin Elisabetta e Federico Michelotti. Abbiamo l'ex comandante della Polizia Municipale di Prato, ma anche colleghi che vengono da Milano, dal Belgio, dalla Spagna, da Venezia. Quindi un team ben ampio e variegato.